Sentite che fino all'inizio d'aprile volava da trasportare in questo momento per ripartire, cosa prenderesti? Non lo so, io sono veramente fieri di questa squadra, sono convinto che questa squadra farà grandi cose, perché l'ha fatto fino ad oggi e continuerà a farlo, quindi la voglio così, la voglio come stasera. Naturalmente a partire da domenica non c'è senso. Ovviamente è già attrappata lì e dovremmo mantenere queste motivazioni, queste sensazioni che avevamo alla vigilia di questa partita e avere la mente soltanto su questa prossima partita. Domani valenati qui e poi ritornate a Firenze. Grazie. Ok, ciao.